Che bel materasso In questo modo ma E' figo quindi continuo a parlare in questo modo Per tutto il commentary e voi dovrete sopportarmi Comunque In questo video appunto E' un contest questo video Che cos'è un contest rusher In un contest Potrete vincere un gioco Gratis E appena sentite la parola gratis siete tutti Stronzi pronti a Uff Lo so che avete aperto questo video solo perchè avete letto contest Lo so E almeno io mi faccio i soldi Visual uguale soldi Voi cliccate il video Mettete mi piace E io mi faccio i soldi Perchè ho la partner avete capito stronzi No comunque Ora facciamo un po' i seri perchè Già sta degenerando questo video Non lo so oggi mi sento molto 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 Comunque appunto Questo è un contest Vi spiego meglio Praticamente ho partecipato a un torneo di Black Ops 2 Di Personal Gamer al GameStop Io sono di Pescara Ho partecipato a un torneo organizzato ad un GameStop Di Pescara Anzi non di Pescara Nelle vicinanze diciamo Ho vinto Ehm Come primo premio mi è stato regalato Diciamo regalato Max Payne 3 Ehm Voi direte Perchè non ci giochi Perchè No Ehm Quando è uscito Max Payne Max Payne No Come si dice veramente Max Payne o Max Payne Che domande inutili Quando è uscito Max Payne 3 appunto Io l'ho comprato L'ho finito L'ho sfruttato al massimo E dopo di che l'ho anche riportato al GameStop indietro Quindi Già Io già ci ho giocato Ed oggi ho deciso appunto di Fare un contest Per rigararvelo a voi Oh mio dio Quanto siete contenti Cioè Lo sapevo che Il vostro scopo nella vita Era aspettare questo video Per vincere Max Payne 3 Io lo sapevo Quindi ora siete tutti Con l'orecchio pronto a sentire Come devo fare per vincere Max Payne 3 Deve essere mio Quindi Ihm Le regole per vincere Max Payne 3 Sono Tre Sì Tre La prima regola è Essere iscritti al canale E mettere mi piace sotto questo video Seconda regola In descrizione ci saranno due pagine Facebook Una è la mia Una è una pagina Con cui sono in contatto E dovete mettere mi piace Dentrambe le pagine Perché quando farò l'estrazione Probabilmente l'estrazione Verrà caricata su una di quelle due pagine Se non avete messo mi piace A una delle due pagine Non vincete Capito stronzi Terza regola Scrivere sotto nei commenti Partecipo E potete farlo solo una volta Il contest oggi è il 7 Non lo so quando caricherò questo video Ma il contest durerà un mese Perché avrei voluto farlo durare due settimane Ma Da due settimane ci stanno le feste di Natale Non ho voglia durante le feste di Natale Di spedirvi un gioco Quindi Facciamolo durare un mese Quindi Stiamo tutti più contenti Comunque Qui di sottofondo Ci sarà un gameplay a caso Non lo so Penso Una partita di tutti contro tutti Sì probabilmente ci sarà Una partita di tutti contro tutti Fatta su Warhawk E come vedrete Verso la fine Dopo che avrò tirato la cam Quitterò dalla partita Oddio Regà Sto soffocando Non ho più il fiato Oh mio dio Oh l'asma Sto morendo Comunque stavo dicendo Alla fine della partita Vedrete che quitterò Dopo aver preso la cam Questo è perché Stavo cercando di provare a fare una doppia cam Su tutti contro tutti Ora sicuramente tutti starete dicendo Rusher No Hai detto una cazzata Impossibile fare una doppia cam Su tutti contro tutti Non è vero Stronzi Avete capito? Dovete ascoltarmi È possibilissimo fare una doppia cam Su tutti contro tutti Basta Fare la prima cam Uscire dalla partita Partecipare a un giocatore recente E rifare Un'altra cam Cioè non è semplicissimo Però si può fare Purtroppo Durante la streak Della seconda cam Lost Ha desbordato Quello stronzo Quindi Non sono riuscito a portare a termine Quel gameplay Però comunque è uscita questa cam E niente Guardatevela Ammiratevela Non lo so Fatevi una pippa sopra Andatevene tutti a fanculo Stronzi Regà questo è il commentare più Più drogato della storia Ciao